Ci hanno forse sempre mentito sull'origine di tutti i nostri combustibili e gas? Ciò che vi voglio raccontare oggi è il risultato di molti miei studi personali, di alcuni libri che ho letto che menzionavano, anche se brevemente, questa teoria e di alcuni videoricercatori indipendenti che hanno esposto altre teorie riguardanti l'origine dei combustibili, nello specifico di quello che noi chiamiamo costantemente e forse erroneamente combustibili fossili e gas naturali. In parole povere, l'origine del petrolio, l'origine del metano, del propano, che fino adesso ci è stata venduta appunto come fossile. Come spesso capita, il nome stesso fa parte di una narrazione e si va a incastrare perfettamente e in maniera molto comoda al sistema stesso che ci propaga questa narrazione. Ma come spesso capita, se approfondiamo un po' l'indagine, vi sono insite molte contraddizioni. Una delle prime contraddizioni che è saltata agli occhi a me personalmente è la quantità che noi estraiamo giornalmente, annualmente, da ormai più di un secolo e mezzo. La definizione wikipediana di combustibile fossile è questa. Si definiscono fossili quei combustibili derivati dalla trasformazione, naturalmente sviluppatasi in milioni di anni, di sostanze organiche seppellitasi sottoterra nel corso delle ere geologiche, in forme molecolari via via più stabili e ricche di carbonio. Si può affermare che i combustibili fossili costituiscono l'accumulo sottoterra di energia che deriva dal sole, direttamente raccolta nella biosfera nel corso dei periodi geologici, dalle piante tramite la fotosintesi clorofiliana e da organismi acquatici unicellulari come i protozoi, le alghe azzurre o indirettamente tramite la catena alimentare degli organismi animali. E bla bla bla. La categoria di combustibili fossili comprende petrolio, idrocarburi, naturali, carbone, in tutte le sue forme, torba, antracite e gas naturali. A me interessa chiaramente puntare un po' il dito sul petrolio e sui gas naturali. Perché? Ve lo spiego alla fine del video. Il primo dubbio che mi viene in mente, appunto come vi ho anticipato, è quello che riguarda la quantità. Facciamo un breve calcolo. Ufficialmente si dice che si estraggono 80 milioni di barili al giorno, oggi, e che questo ritmo è costante e in continua crescita da almeno 50-70 anni. Ora, cerchiamo di calcolare un po' per avere un'idea di quanto siano questi 80 milioni di barili al giorno. Se li trasformiamo in litri, sono 12.640 milioni di litri. 12.640 milioni di litri. Milioni di litri. Il che bisogna moltiplicarlo per 365 giorni e per una cinquantina d'anni, o fate voi qualcuno in più, qualcuno in meno. Ora, trattasi di miliardi di metri cubi annui. Si tratta di laghi, di chilometri e chilometri cubi di petrolio. Ora, non sono l'unico a contestare questa dicitura, questa narrativa. Chiaramente io non sto dicendo che tutto il petrolio che noi estraiamo non sia di origine fossile, non sia di origine vegetale, ma sia di origine, e qui c'è un termine, abiotica, che è appunto la teoria scientifica altrettanto valida e altrettanto studiata di quella fossile, che ci dice che invece il petrolio si forma anche, non da origine vegetale, non fossile, ma minerale. Ora, non scendo nel particolare, non scendo nello scientifico. Né per una, né per l'altra. Probabilmente tutte e due hanno ragione, ma in quale quantità? Se fino adesso c'è stato venduto che il petrolio di origine fossile, che il cambiamento climatico arriva perché noi stiamo bruciando ore e ore di sole di un periodo lontano, di ere geologiche lontane, dove milioni di tonnellate di alberi si sono trasformati in petrolio per farci un piacere a noi e per far funzionare la nostra auto diesel, che di conseguenza tutto ciò distrugge il pianeta, e quindi che dobbiamo cambiarla? Se tutta questa narrazione è basata su una cosa che si chiama combustibili fossili e questa unica cosa è falsa, io mi chiedo in che modo noi possiamo reagire a tutto ciò e soprattutto se esiste un dibattito. Chiaramente la mia è una domanda retorica, perché questa teoria qui è quasi sconosciuta. Non la sentirete mai essere né pubblicizzata né discussa in televisione. Nessuno si occuperà mai di questa cosa. Il perché lo lascio indovinare a voi. Quello che io voglio proporre però sono i quattro punti fondamentali per cui questa teoria viene messa in discussione. Il primo riguarda la grandezza dei giacimenti che non ha un corrispettivo rispetto alla sua origine. Cioè non ci sono depositi secondari minori. Secondo dubbio, appunto, i giacimenti sono presenti a differente quote, corrispondenti a ere geologiche diverse, e indipendentemente dalla presenza di sedimenti biologici. Quindi sono presenti anche dove non c'è e dove non c'è mai stata una foresta. Dove non c'è o dove non c'è mai stato l'oceano. Il grande dubbio è che i depositi biologici non giustificano le enormi quantità. Quello che mette in crisi ancora di più il sistema è l'origine biologica del metano, perché il metano si trova in quantità enormi. Il quarto dubbio è che se noi analizziamo gli idrocarburi, hanno quasi tutti la stessa firma chimica, mentre le formazioni circostanti hanno ere geologiche ben distinte. Concludo dicendo una cosa che non è presente nella teoria abiotica, ma che per me, che sono un appassionato di astronomia da tanti anni, mi ha sempre messo un po' in crisi, mi è sempre venuta agli occhi e non l'ho mai esposto pubblicamente, ed oggi volevo farlo. Cioè il fatto che petrolio, metano, propano, soprattutto quest'ultimi, metano e propano, sono presenti in moltissimi pianeti del nostro sistema solare. i laghi di metano di Titano, il metano presente su Marte, dei satelliti di Giove. Mi chiedo, quindi c'era vegetazione su Titano, su Nettuno, su Plutone, su Marte, c'era vita, c'era un'enorme quantità di foreste? Probabilmente la risposta è no, anche perché l'origine del metano, ed è la NASA ad esempio che lo dice, su alcuni pianeti, soprattutto su questi satelliti lontani da noi, dove il sole non è altro che un'altra stella luminosa nel cielo, non può essere sufficiente, almeno così vuole la narrazione, per la formazione di vegetazione, né adesso né mai. Queste sono un po' le incongruenze di un sistema che radicalizza ogni cosa, che estremizza il dialogo, che non vuole mai ascoltare una controparte e che dà soprattutto per scontato tutto quanto, tra cui l'origine fossile dei combustibili. Vi ringrazio, spero che l'argomento vi sia piaciuto, e al prossimo video.